Ma no, spiazzalo, vai, non lo mettiamo. Ne mancano sempre due cassoni in panchina. Mister, sostituzione. Più tardi ne leggeremo un disco duro. Vabbè, vai, sparate! Da oggi in poi non si chiede più se ti piace duro, ma se ti piace è futuro. Ragazzi, ci da spostare un'Audi Station Wagon grigia, grazie, urgente. E' una bella con noi. E' una bella con te, a poter. E' una bella con me. E' una bella con me. Ma, me! Ma, mibra? Ma, mi brava! Occhio al naso di capello Un posto più morbido dove mettere il naso La musica mi ha fatto Sì, sì! Sì, sì!